Il Rotary, la Ravenna Galla Placiglia partecipa a questa iniziativa e la sostiene perché innanzitutto la Ravenna Lab e le Lab e fare conto con l'ambiente è coordinato da un nostro consocio Giovanni Montresori quindi molto volentieri siamo coinvolti. Inoltre questi temi innovativi, ad esempio questo delle start-up è un tema che riguarda i giovani e il Rotary verso i giovani ha davvero uno sguardo particolare e un'attenzione particolare che non vuole assolutamente dimenticare. Il tema dell'ambiente poi ci sta moltissimo a cuore quindi l'ambiente, l'innovazione e tutto ciò che appunto può fare in modo che il nostro futuro sia migliore e soprattutto il futuro delle nuove generazioni.